Eccoci qui ragazzi, io sono sempre Marco Agustoni di Illustrator Startup.com In quest'ultima lezione dell'anno voglio mostrarvi come creare questo simpatico poster sfruttando la griglia rettangolare di Illustrator. Questa è un'altra di quelle lezioni che ho estratto direttamente dal corso completo Illustrator Startup che come vi ricordo è un percorso step by step in cui potrete apprendere il software dalla A alla Z. Comunque per qualsiasi informazione vi lascio sempre il link in descrizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.